E' esplosa ieri, al termine di Milan-Genoa, la rabbia del tecnico rossonero Vincenzo Montella contro l'utilizzo, a suo dire, spropositato del VAR. Il nuovo sistema di supporto video a sostegno delle decisioni arbitrali non piace molto al tecnico napoletano che ieri, dopo la partita contro il Genoa condizionata anche da alcune scelte prese dall'arbitro Giacomelli proprio grazie al conforto della tecnologia, ha espresso giudizi non molto positivi sul suo utilizzo. Montella ha bollato, come televisivo il sistema del VAR, riferendosi in particolar modo alla scelta dell'arbitro di espellere Bonucci a seguito della gomitata rifilata dal capitano rossonero Arosi. Montella VAR, le dichiarazioni del tecnico rossonero. Vorrei capire se siamo in un mondo televisivo o di campo. Accetto il VAR, ma se l'arbitro percepisce una situazione di campo non si può usare il mezzo televisivo. Il VAR mi aiuta tantissimo a perdere la pazienza, io mi gioco la carriera. Non penso ci sia una regia contro il Milan, ma se siamo in un mondo televisivo quello di Rigoni è calcio di rigore. Ce ne manca, anche uno su Calini, che punto chiuse virgolette queste le polemiche dichiarazioni di Montella nel post-gara contro il Genoa. Che hanno provocato quest'oggi la pronta replica di Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. L'ex fischietto ha risposto per le rime a Montella, dichiarandosi soddisfatto dell'utilizzo del VAR da parte degli arbitri di Serie A in questa prima parte di stagione ed invitando il tecnico del Milan a rivedere i propri atteggiamenti nei confronti del nuovo sistema di assistenza. Io non rispondo a Montella in senso lato, dico soltanto che anche lui si dovrà adeguare a questa tecnologia. La carriera non se la gioca solo lui ma tutti. Lui sa come contenersi, se la sua squadra aggirasse, come si deve non saremmo qui a commentare. Noi siamo contenti.